Siglato un accordo fra i tre principali paesi del Cilento, Capaccio Pestum, Agropoli e Castellabate, al fine di rafforzare ancora di più il già immenso bacino turistico che occupano queste tre città. Il protocollo d'intesa firmato dai tre comuni è nato dalla possibilità di unirsi per rafforzare le politiche di internazionalizzazione e di promozione del territorio ed intervenire in maniera più efficace per affrontare questioni di interesse degli operatori turistici quali la mobilità, l'informazione e la formazione di settore e data la necessità di intervenire con una strategia integrata per la promozione dell'offerta ricettiva e di servizi complementari e per la valorizzazione delle attività artigianali e culturali. L'accordo è nato anche data la presenza di stakeholder già da diversi anni sul territorio occidentano e che grazie alla collaborazione con le istituzioni possono migliorare sensibilmente l'offerta turistica. Quindi, viste queste considerazioni, tre enti comunali guidati da Adamo Coppola per Agropoli, Franco Alfieri per Capaccio Pestum e Costabile Spinelli per Castellabate hanno deciso di sfruttare maggiormente le potenzialità del territorio dei loro paesi unendosi e rafforzando il turismo nel Cilento.